cari amici buongiorno quest'oggi ci troviamo con la bellissima lady muffin però oggi è struccata ma c'è un motivo c'è un motivo diciamolo questo motivo noi praticamente abbiamo provato un siero e una crema da un dottore che conosciamo ero un po scettica ma si tanto è una crema come un'altra adesso vi faremo vedere con i vostri occhi che cosa fanno è un po scettica si la regina non scettica però sai che come santo maso fino a quando tu non vai a provare comunque io ho già provato prima tommy ha già riso prima e non deve più azzardarsi tra l'altro perché io non voglio sporcarmi i capelli certo certo faremo anche diciamo un video tutorial no per mostrare ai nostri amici come si no ma adesso a parte gli scherzi ve lo faccio proprio vedere tutorial proprio dal vivo perché questa cosa è fantastica anche io sono struccato cioè sono tutto così allora ragazzi iniziamo con l'acido con l'acido facciamolo vedere questo l'acido con il siero ialuronico certo a differenza delle vere influencer che loro imparano tutta memoria io non ho voglia voi lo sapete quindi io vi vado a leggere caratteristiche e poi ve lo faccio vedere ci sta caratteristiche morbido siero a base di acido ialuronico e ginseng l'efficacia del prodotto è dovuto alla presenza di una particolare forma di acido ialuronico legato a un complesso che lo rende disponibile ed efficace aumentandone la proprietà idratante e antiossidante mentre l'effetto del ginseng dona tonicità e compattezza al viso ottimo allora questo è si chiama il siero e nel peggagin a peggagin sì no perché mi sta venendo in mente no perché il nostro lavoro c'è una cosa che comincia con per capito e quindi pensavo che comunque allora intanto la comodezitudine è che certo è fatto di plastica dura quindi dovesse se non cade meglio ma se dovesse cadere almeno sappiamo che non si spacca diciamo che però anche la forma va a richiamare un attimino quello che potrebbe essere diciamo fallica ma oddio però diciamo che potrebbe sempre tornare utile ragazzi adesso questo sarà nuovo ragazze o ragazzi sarà nuovo quindi cliccherò un po di volte senza che uscirà nulla comunque niente 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 prima adesso c'è lo sento lo sento sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando si sta riempendo per bene eccolo ecco la spruzza donna un po troppo cioè non ho messo la mano giusta schizzato ok allora io ho fatto uno scruzzo e mezzo perché mezzo non è andato a buon fine è andato sulle brioche che sono in fondo però è dosato per un'applicazione esatta andiamo a metterlo lo mettiamo sul viso non fare troppo zoom perché sai che c'è un po di distanza hai troppa confidenza poi troppa sa che non va bene c'è sempre un limite in tutto allora andiamo ad applicarla quindi il contorno occhi quando l'applichiamo massaggiamo verso in su qua e anche il collo io non tendo mai a metterlo anche nella zona dei coltè perché tanto sul tatuaggio e quindi anche se di volta 70 anni mi sa rapacchia la pelle non si vede neanche al massimo il veliero sarà un po più rapacchiato ma fa niente allora intanto il siero va proprio all'interno del derma sto leggendo e fa una sorta di scrub ma non c'è bisogno di apri tanto un po la sapevo a memoria quindi soltanto una frase quindi stranamente perché non ho mai visto sieri che fa un effetto scrub questo fa l'effetto scrub anche io anche io l'ho fatto lo scrub quindi questo è il siero poi andiamo con la crema la crema che si chiama botolift allora velutata emulsione ricca di rinomati principi attivi quali bava di lumaca qua devo chiederti a te si dice peptide o peptide e non lo so io lo scrivo loro nei commenti e non lo so non l'abbiamo chiesto perché mi sono informato prima su google effetto botulino simile a una è stata appositamente formulata per trattare segni di precoce invecchiamento cutaneo quindi rughe perdita di elasticità tipo facce che vi cadono secchezza ma soprattutto discromie discromie cosa sono le discromie to mia canaglia lo sappiamo tutti inutile che stiamo qua a dirlo lo sanno anche loro ma lascia le discromie sono le macchie della pelle che non essendo più ventenni ormai purtroppo la natura ci sono ci sono sì 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 inoltre grazie alla a questa una cosa strafiga a parte gli scherzi alla proprietà filmogena protettiva ed altamente idratante della baba di lumaca il prodotto è particolarmente indicato per pelle delicate e reattive questo cosa vuol dire che va bene anche per i raggi solari questo è il suo packaging packaging l'ho detto io che il dottor luciano si è lui anche scritto qui dottor tucci luciano e anche questa non è fatta di vetro non è fatta di verma di plastica quindi se non accade è meglio ma se cade non si spacca questa è la parte più figa del figa di tutto perché perché intanto dobbiamo aprire adesso ce n'è tantissimo quindi a me ne serve tira-sutile-sutile-sutile-sutile-sutile-sutile-sutile tanto dici qualcosa anche tu e anche di sensato sia il siero che la crema hanno un profumo veramente buono è delicato e fresco tra l'altro io fino a poco fa usavo un'altra crema che mi lasciava la pelle allora io ho la pelle mista non mi lasciava la pelle non mi faceva venire brufoli ma me la lasciava di un'untezzitudine ma era unta da fare schifo adesso iniziamo la magia perché ma vi faccio vedere cosa accade cioè non è che adesso cambio faccia diventata da schiffer però qualcosa accade certo spalmiamo spalmiamo poi tanto tommy in questa parte qua la delocizzerà giusto? si confermi? ma oddio poi vediamo se non possiamo fare i video di 25 minuti anche perché poi la gente non li regge e hanno ragione la gente ci affretta massimamente ma figurati io perché lo faccio bene perché è una coccola per me è una coccola è bello io non so mai se ma secondo me faccio bene anche se le labbra col filler ma io non so andiamo a spalmare spalmare forse siccome che sono un po' ingorda ne ho messa una picchetta in più però meglio sempre un po' in più e meno no? questo è infatti ancora non c'è l'effetto desiderato che deve arrivare tra un po' tra un po' arriva tanto guardo le foto di famiglia che abbiamo qua davanti poi devo andare anche in settimana prossima a ribattere le sopracciglia non so se vi interessa ma ve lo volevo dire questo giro velocizia te lo sto dicendo iniziamo ad asciugare cioè inizia ad asciugarsi più che altro allora visto che l'acido yaluronico si ha fatto l'effetto scrub questa crema fighissima a parte che stira completamente ma soprattutto va ad eliminare le cellule morte adesso vi faccio vedere la prima volta ho detto ma veramente ma veramente fa sta crema cioè tu c'hai le cellule morte in faccia sono un essero ma sono vivo più che altro quindi se sono viva praticamente sì è normale se fossi stata morta ero semplicemente in putrefazione la buttata lì invece no essendo un essere viviparo o ovoviviparo? non ho visto cose difficili che poi pomeriggio cioè hai capito? fa fatica poi chi è l'essere ovoviviparo? poi lo vediamo poi lo chiediamo a google dai questo devi saperlo si studiava gli elementari preconcello facevo ben altro già degli elementari? madonna che bimbo precoce ecco era proprio quello che volevo farvi vedere aspetta 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 quello voleva farvi vedere guarda 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 adesso direte oh ma che schifo no perché la natura la natura eh fai vedere c'è ragazzi cioè scusa ragazzi non dite perché ce l'avete anche voi ce l'avete anche voi cioè se voi comprate la crema e guardate questo sulle mani poi fate i salti di gioia non fate perché praticamente tutte le cellule certo e vi assicuro perché non voglio poi farvi un video da 200 minuti certo certo che più massaggiate più massaggiate e più le cellule morte vanno a finire sulle vostre manine mani poi bella anche il collo cioè guarda 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 no io non potevano fare un video perché per me è una cosa fantastica mi stavo sottando con la saliva non ho mai visto una crema barra siro che fanno questo lavoro roba del genere no ragazzi parliamone anche voi ce l'avete inutile che di te che non ce l'avete anche voi avete le cellule morte e che invece sulle vostre facce probabilmente rimangono lì attaccate sulla regina vanno via io sto facendo via le cellule morte perché voglio fare un secondo cioè un'altra passata quindi intanto che chiacchieriamo intanto qua davanti si è messo un po' troppa quindi un po' esagerato cioè io quando vedo che rimane anche qua certo poi dico no sì e poi vedo anche la pelle migliore sono soltanto due giorni questo è il terzo però sto mettendo quindi ragazzi a parte gli scherzi io questa crema e questo siero no no va bene sì 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 guarda 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 no 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 ma guarda ma guarda ve lo straconsiglio sì non so se è un consiglio o se è un consiglio che voglio mi piace sì no va bene se ci stanno mi piace mi piace e se proceda con le restano sono così Grazie a tutti.